Va bene. Tarik, la situazione? I russi sono qui fuori. Se vedono le vostre armi, spareranno. In quel caso il nostro piano fallirebbe subito. Alex, non devono vedere le armi. Nascondila dai russi. Segui. Non ho fatto niente di male! Se ci va, io te ci voglio! Gnavugia! Corri generale, rombo un barco. Le forze di Barkov occupano l'interno. Hanno separato i loro ufficiali, perciò saranno ancora più scrupolosi. Ci sarà anche Barkov? Non si vede quasi mai. Lascia ad altri il lavoro sporco. Che tipo di lavoro sporco? Munizioni. Per aver disobbedito. Ci sono delle forze in Nord-Nextern. Mi sono passato. A sinistra, nel vicolo. Vedi quel soldato? Adesso sto! Uccidilo. Vieni qui! Mettiti al sicuro, sorella. Sei pieno di risorse? Bene. Andiamo! Ho dei contatti poco più avanti. Hanno altri esplosivi per noi. Un botto più grande farà uscire più forze dalla base russa. Merda! I soldati di Barkov hanno trovato i miei contatti. Forse sono già morti. Niente da fare. Serve un silenziatore. Cerca un filtro dell'olio. Silenzierà la tua arma. Cerca nelle autocivili. Io tengo d'occhio le guardie. Può andare. Bene. Prova ad aggirarli. Gira attorno al camion. Lato destro. Alex, avanza sul fianco destro. Tu prendi ne due. E altri a me. Libero. Sta giù. Mi dispiace per i tuoi contatti. Abbiamo gli esplosivi. Il loro sacrificio non sarà in vano. Nascondi l'arma. Torniamo fuori. Seguimi. Vado avanti. Questo è un crimine di guerra. Una punizione per il gas rubato. Barkov vuole dare un esempio. Cosa possiamo fare? Completiamo la missione e fermeremo per sempre le crudeltà di Barkov. Barkov invia gli elicotteri. Distruggiamoli e le forze della base accorreranno in fuoco. Così noi potremmo dare un'altra base accorreranno in fuoco. Sì. Metti gli esplosivi sugli elicotteri. Io ti copro. Se trovi delle guardie, panni fuori. In silenzio. Ritroviamoci qui appena è finito. Che rifiutano di comportarsi in modo tale da garantirsi una vita sicura. Di pace e di prosperità. Questi insorti continuano a sferrare inutili attacchi. in nome della cosiddetta libertà. Questi maledetti terroricole sono un cancro per questo paese. Non può esserci ordine e neanche pace. Oh correi. Quella?